benvenuti in questa rubrica oggi parliamo di... gomme ebbene sì è arrivato anche il mio turno di parlare di gomme troverete consigli sulle su fuoristrada 4x4 ovunque veramente ovunque su youtube però io voglio parlare della mia esperienza personale allora io prima di montare queste gomme qua avevo le bf goodrich le all terrain ottima gomma forse leggermente morbida però ci può stare se avete uno stile di guida come il mio soft in curva unico neo di quelle gomme lì è che il prezzo il prezzo costa una schioppettata io parlo sulla mia macchina perciò un wrangler con i cerchi da 18 parliamo di 200 euro a gomma montate poi c'è chi mi dirà io lo pagate di meno io lo pagate di più è onesto è disonesto ma questo io vi dico anni fa lo comprate e l'anno scorso era ora di cambiare le gomme ho cercato di nuovo le bf goodrich tranquillamente non le ho trovate perché dopo lockdown hanno avuto dei problemi hanno messo di più tempo a ristamparle mettiamola così e il problema che le mie erano completamente cotte tranne quelle sull'anteriore ma avevano vita breve infatti una delle anteriori è nato e finire nella ruota di scorta come avete magari già visto in qualche altro video allora cosa fare cosa non fare ho chiesto consigli a svariati gruppi anche un gruppo di amici che abbiamo su whatsapp che ringrazio e mi hanno consigliato prova le ricostruite allora io sono sempre stato contro le ricostruite devo essere sincero però mi sono trovato in condizioni che è la macchina pattinava e messo in un paio di gomme c'è un paio quattro gomme cosa facciamo allora mi sono affidato a zia rielli premetto che non sono sponsorizzato da loro perciò proprio proprio palese palese quello che vi dico credetemi allora gomme che a posto di essere 200 euro luna sono 139 euro ve le spediscono a casa hanno un bel disegno queste qua sono le cruiser 4x4 mps perciò va bene neve un po di tutto fango un po di tutto allora diciamo a livello rumorosità fattibili fattibili come più o meno le bf goodrich a livello tenuta mi hanno stupito devo essere sincero perché ormai è un anno che ce l'ho infatti non volevo fare la recensione prima perché ho detto prima voglio provarla devo essere sincero l'unica cosa che volevo provarle quest'anno sulla sabbia mi è andata male perché ho avuto problemi di salute perciò non ho provato sulla sabbia ma l'ho provato su qualsiasi fondo perciò asfalto asfalto bagnato che come ben sapete il wrangler sull'asfalto bagnato tipo un carrello della spesa su fango su sterrato asciutto sterrato bagnato ghiaccio neve soffice e addirittura l'ho provato l'anno scorso su un fondo ghiacciato con sopra neve fresca e devo essere sincero mi hanno stupito non pensavo non me l'aspettavo nulla ho detto vediamo vediamo come vanno ste gomme mi hanno stupito oltre che loro sono molto cordiale hanno una pagina instagram molto attiva poi l'assistenza è ottima nell'arco mi sembra di una settimana neanche no quattro giorni lavorativi mi sono arrivate perciò se avete anche urgenza zirelli fa una gamma di gomme extreme a livelli stratosferici roba quasi da trattore che però per quello che utilizzo io che sapete benissimo che la mia unica macchina perciò la uso tutti i giorni non mi sembrava caso troppo rumorosa aumento di consumi una cosa l'altra su questa con l'aumento di consumi devo essere sincero qualcosina in più ma qualcosa di irrilevante poca roba l'unico neo che posso dire che ho trovato su queste gomme qua è il discorso rigidezza nel senso che il mio meccanico il mio gommista quando me l'ha montato mi ha detto mamma mia mi sembra di montare le gomme dei camion effettivamente hanno la spalla molto dura e ogni tanto devo ricontrollare la pressione delle gomme nel senso che magari vado a fare una giornata in fuoristrada oggi non tanto magari faccio qualcosa di un po più spinto mettiamola così un po più veloce e mi ritrovo dopo due giorni il sensore che mi dice pressione bassa perciò io devo prendere andare a gonfiare nella me in officina ed è perde sempre un po qualcosina però per il restante è fattibile diciamo che chi le vuole acquistare per fare un viaggio overland o qualcosa del genere vi conviene portare dietro un compressorino perché nel mio caso poi magari non in tutti i casi nel mio caso ho riscontrato questo problema disegno come avete visto dal filmato iniziale è un disegno all terrain perciò scarica molto bene la terra cosa che non pensavo sono andato su terreni argillosi dove le gomme come ben sapete si impastano che è una meraviglia e poi non tengono più perché diventano come fossero delle slick delle saponette queste qua scaricano bene la terra la neve in questo caso come oggi anche se non ce n'è tanta devo essere sincero mi trovo molto bene unico altrettanto neo diciamo un altro neo che ho trovato la spalla nel senso che io vedo con le bf gudrici che sulla spalla si poteva lavorare nel senso un canale o un passaggio dove magari c'è questo canale io con le bf riuscivo a lavorare di taglio chiamiamolo così sulla spalla della gomma e loro non scivolavano queste qua invece sono on off o tengono o sono tu scivolate perché adesso poi dopo vi faccio vedere anzi ve lo faccio vedere ora come vedete ha il taglio netto quello quello sì scusate le riprese un po mosse ma non sono la rai e ha un taglio un po netto allora magari trovate un po la schiena un po lì ha in tendenza a darvi il colpo per restante gomme divertenti nel senso che se volete divertire vi divertite anche sui piazzali con la neve parliamoci chiaro a livello di usura anche qua saremmo stupito perché avevo paura che fossero o troppo dure o troppo morbide poi ho detto magari costruite sono dure come l'asfalto non si consumano più oppure sono morbide all'arco di un anno me le sono fatte andare io su queste gomme qua ho già messo su un quasi un 30 mila chilometri e devo essere sincero ho consumato bene o male come le bf adesso non ho i dati dietro perché li tengo da me in officina ma i dati erano più o meno lì forse queste qua consumano un pochettino di meno perciò sono un pochettino un po più dure delle bf però devo essere sincero vanno vanno molto bene consiglio non le consiglio ma oddio allora su questo mezzo qua posso dire che mi sono trovato molto bene ma per la mia tipologia di guida è per quello che faccio io perciò anche con la tenda sopra vanno molto bene non mi danno problemi che magari non tengono piuttosto affondano mi hanno sempre tirato fuori dai chiamiamoli guai ovvio che se voi avete un proto e andate a fare trial e mezzi boschi queste no zierelli altre comunque un'altra gamma di gomme extreme voi potete fare lo che volete ma se voi avete una panda 4x4 facciamo l'esempio di un mito italiano che a me piace molto e volete divertirvi solo sabato domenico andare a fare qualche circuitino o solo lo usate solo nel periodo estivo per fare un minimo di campeggio in giro come secondo treno ve lo consiglio perché comunque hanno un prezzo abbastanza onesto la qualità c'è l'assistenza c'è e ci stanno ci stanno non so a livello furgoni perché le bf goodrich so che tipo chi di voi segue gli arighidone lui le monta si trova bene ma anche lui si è lamentato il discorso che sono un po morbide però tenuta stratosferica queste qua su un furgone non lo so io ho visto dei furgoni con queste gomme montate però non sono mai riuscito a fermare per chiedere come si trovavano perché mi sembra una cosa andare a rompere le scatole la gente per l'estate che dire per quello che come ho detto per quello che faccio io per come me la vivo io il fuoristrada per come mi vivo io la macchina perché io la uso sia come fuoristrada come macchina in tutti i giorni eccezionali poi a voi l'ardua sentenza ve lo consiglio vi lascio in descrizione il sito di Zerielli guardate anche la pagina che dovrebbe essere Mario Zerielli o Zerielli Mario di Instagram che vi lascerò anche in descrizione vi cercherò anche quella andate a dare un'occhiata se siete nel dubbio magari un treno di gomme provatelo mettiamola così io mi sono trovato molto bene più tutto anche come prezzi contenuti perché tipo la mia è già solo di gasolio consuma una schiopetata e con queste qua devo essere sincero la spesa ne vale la resa diciamo mettiamola così spero di essere tornato utile a qualcuno che non è per forza che deve avere un wrangler ma potete anche vedere benissimo una panda 4x4 spero che mi seguiate le altre rubriche o comunque mi seguiate nelle mie avventure in questo periodo qua sto rallentando un pochettino per discorso mio personale però pian pianino sto dietro al canale vi ringrazio per il supporto vi ringrazio per i follow vi ringrazio per i mi piace vi ringrazio per tutto perché siete voi che mi date la spinta per continuare dai ragazzi alla prossima avventura alla prossima rubrica e ci vediamo magari in giro su qualche starrato va bene ciao